Ok, il pollo c'è. Adesso manca solo una carrucola. Oh, ma guarda chi c'è. Benvenuti, cari pazienti, in questa nuova puntata di... I giochi! Ecco, come avrete capito dal titolo del video, non parleremo certo del fatto se sia meglio PES o FIFA, come moltissimi di voi continuano a chiedermi a gran voce. Ma che diavolo? Piuttosto scaveremo a piene mani nel passato delle gloriosi avventure grafiche targate LucasArts, alla scoperta dei titoli più famosi basati sul celebre SCUM. Il motore di gioco, anzi più precisamente si trattava di un linguaggio di scripting semplificato, usato come base di gran parte dei titoli Lucas degli inizi, a partire proprio dal famosissimo Maniac Mansion. L'acronimo SCUM infatti sta proprio per Script Creation Utility for Maniac Mansion. SCUM, per stessa ammissione di Eric Wilmander e del mitico Ron Gilbert, i suoi ideatori, doveva infatti servire limitatamente per Maniac Mansion, ma si rivelò talmente comodo e semplice da usare sia per gli sviluppatori che per i giocatori, grazie alla sua interfaccia intuitiva, che la sua struttura e molta della base originaria fu usata per moltissimi anni su una moltitudine di giochi diversi. Anche se lo SCUM dal lato sviluppatore prevedeva un importante set di strumenti che gestivano non solo il codice, ma anche tutti gli elementi multimediali, grafiche e sonoro inclusi, per noi semplici videogiocatori la caratteristica principale che contraddistingueva questo sistema era la presenza dei famosissimi tasti verbali per la scelta delle azioni, spesso combinabili fra loro a seconda delle situazioni o dell'ambiente di gioco in cui ci muovevamo a schermo. Apri oggetto, usa questo con questo, dai oggetto a... L'interfaccia dei giochi SCUM era allo stesso tempo semplice, intuitiva, ma dalle possibilità quasi infinite. Il suo funzionamento era talmente ben studiato che praticamente tutte le avventure grafiche successive ne trassero ispirazione, spesso semplificando le operazioni o rendendole semi-automatiche. Fra le più famose, ad esempio, le avventure Revolution, come Broken Sword e Compagnia Bella, che riuscivano a racchiudere le idee originali in soli tre comandi contestuali, prendi, usa e osserva. Sollevai il coperchio per scoprire cos'era che puzzava di fogna. Insomma, i giochi SCUM sono entrati di diritto nella storia dei videogiochi. Ma se dovessimo elencare tutti i titoli più rappresentativi della categoria, quali potremmo citare? Beh, ecco a voi una bella carrellatona di dieci... No, facciamo dodici, proprio perché non dobbiamo essere secondi a nessuno, più importanti avventure grafiche basate su SCUM. Stavolta in ordine cronologico. Ma prima... Sigla. I GIOCHI CON DOCTOR GAME Concepito originariamente per Commodore 64, Maniac Mansion è il primo gioco in assoluto ideato e sviluppato completamente sulla base di SCUM. Il titolo prendeva bellamente in giro i tanti cliché dei film horror di serie B, e integrava una caratteristica completamente inedita per l'epoca, cioè la possibilità di utilizzare separatamente ben tre personaggi principali, indimenticabili i bizzarri nemici che avremmo dovuto fronteggiare, fra cui un Dottore Pazzo e due tentacoli mozzati senzienti. Di Maniac Mansion esistono innumerevoli porting, uno anche per NES che, pur con alcune limitazioni, riportava anche sulla macchinetta Nintendo il sistema di gioco abbastanza fedelmente. Pur essendo invecchiato maluccio, il titolo è degno di essere giocato e rigiocato anche oggi, quindi fateci un pensierino. Secondo gioco ad avvalersi del sistema SCUM, Zach McCracken narrava le gesta di un giornalista comune alle prese con dei perfidi alieni in grado di prosciugare l'intelligenza degli esseri umani, rendendoli più ignoranti di una scarpa. Insomma, dei perfetti utenti medi di Facebook. Che sia un caso che l'intero gioco giri proprio intorno alle teorie del complotto, a guru che si credono di professare la verità assoluta e in generale si respiri una spessa atmosfera New Age? Boh, non si sa. Fatto sta che alla fine comunque si tratta di un giocone, forse ancora un pelino sperimentale, del resto la vena comica demenziale che avrebbe caratterizzato le avventure Lucas doveva ancora esprimersi appieno, ma nonostante ciò è un titolo che ha fatto storia. Da rigiocare assolutamente. Primo e ultimo gioco scoom basato su una licenza cinematografica, questo ta-indy lusso ripercorreva pedissequamente le vicende della terza avventura cinematografica dell'archeologo impersonato da Harrison Ford. Un gioco più che buono, interessante e giocabile, con addirittura una meccanica che teneva conto del quoziente intellettivo del nostro indie, premiandoci ogni qual volta avessimo trovato un modo alternativo di risolvere un enigma o di combattere un nemico. Peccato per la storia, ovviamente scontata per chi aveva visto il film. Ma non lamentiamoci, le altre versioni di questo stesso tie-in, ad esempio su console, erano dei mediocri titoli action, quindi va benissimo così. Nato un po' come test generale per provare i limiti creativi permessi dallo scoom, Loom si rivelò un'avventura magica e suggestiva che andava ben oltre le aspettative. L'avanzata interfaccia integrava la possibilità di creare diverse piccole melodie di quattro note, ciascuna legata ad una diversa azione nel gioco, il cui effetto poteva essere invertito suonando la melodia corrispondente al contrario. Un sistema di gioco innovativo ed originale, che valse al titolo un ottimo successo, soprattutto nelle versioni per DOS ed FM Towns. Nonostante i risultati, eppure essendoci stati vari piani in tal senso all'epoca, il progetto di un seguito non riuscì mai a concretizzarsi. Solo nel 2013 le speranze parvero prendere vita sotto forma di Forge, un seguito made in Italy semi-ufficiale diviso in tre episodi ad opera del team Kill of the Wisp, capitanato dal talentuoso Gabriele Nannetti. Il primo di essi è scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale forgegame.com, ma degli altri due purtroppo se ne sono perse le tracce. Ed è davvero un peccato. Cosa era? Il capolavoro, protagonista indiscusso della giovinezza di tutti i nati negli anni 70 e 80. La prima avventura del mitico Guybrush Tripwood, nella sua epopea per diventare un temibile pirata, è forse l'esempio più eccellente di gioco basato su scomma. Indimenticabili duelli di spada ed insulti, uno dei migliori villaini mai apparsi in un'avventura grafica, cioè il terribile pirata fantasma Lechak, e un plot narrativo sorretto da enigmi perfettamente demenziali, ressero questo gioco, scritto da Ron Gilbert insieme a Tim Schaffer e Dave Grossman, la quintessenza dell'avventura grafica. Una perla inestimabile che chiunque, anche la più puzzolente delle scimmie a tre teste, dovrebbe giocare almeno una volta nella vita. Ma può mai esistere qualcosa di migliore di Monkey Island? Certo, si tratta di... Monkey Island 2 Più bello, più grande e col 65% di scimmie in più. Il secondo capitolo di Monkey Island rappresentava un vero esempio da manuale di come bisognerebbe fare un seguito di successo. La leggendaria avventura di Guybrush alla ricerca del tesoro di Big Whoop è tuttora considerata una vera pietra miliare nella storia delle avventure grafiche. Monkey Island 2 è poi il capitolo della saga più influenzato da Disney, e in particolare da... Non ditemi che non lo sapevano. Lo sapevi che... Con Dr. Game! Non sapevi che i videogiochi di Monkey Island traggono ispirazione dall'attrazione Pirates of the Caribbean presente fin dagli anni 60 nel famoso parco Disneyland in California? Esattamente, si tratta della stessa attrazione da cui è stata tratta la fortunata saga cinematografica con Johnny Depp. Giochi e film derivano quindi dalla stessa fonte, ed è per questo che in molti dettagli si assomigliano! Lo sapevi che... Con Dr. Game! Eh già, che roba, eh? Beh, che dire, senza ombra di dubbio il miglior gioco in assoluto basato su Indiana Jones. Punto. Potremmo finirla qui e già basterebbe. Sarebbe inutile parlare di una storia meravigliosa che avrebbe portato Indy in giro per il mondo fino alla scoperta della perduta Atlantide, o sottolineare la giocabilità perfetta, sorretta da enigmi maturi e ben concegnati, o la magnificenza grafica, soprattutto sulle più recenti versioni che si avvalevano del supporto alle schede grafiche VGA e al CD-ROM. Nah, ma perché discuterne? Basta solo dire che per molti anni, e forse anche tutt'oggi, Indiana Jones e The Fate of Atlantis venne unanimemente riconosciuto come il vero e unico quarto episodio delle avventure del nostro archeologo preferito. Altro che quella mezza cagata del teschio di cristallo coi piedi di comalto e le palle tonnate. Ah, non oso pensare cosa verrà fuori col prossimo quinto film. I brividi di terrore. Questo meraviglioso sequel di Maniac Mansion segna una sorta di punto di svolta per le avventure Lucas. Il motore grafico, profondamente aggiornato, riusciva a gestire un'animazione degli sprite più fluida, più dettagliata, facendo assumere al gioco un aspetto sempre più da cartone animato. Il lavoro eseguito da artisti ed animatori è encomiabile, e anche la storia alla base di questo titolo contribuisce a farlo brillare per caratterizzazione, situazioni paradossali e personaggi, senza dimenticare lo strepitoso doppiaggio. Si tratta senza alcun dubbio dell'avventura scoom più fuori di testa, ma nel senso buono del termine, ovviamente. Un grande classico recentemente rimasterizzato e riproposto al pubblico, e quindi da non perdere per alcun motivo. Uff! Oh, sembra che la cosa si stia ferocemente complicando. Scaturite dalla mente geniale di Steve Purcell, le avventure del flemmatico cane poliziotto e del suo psicopatico aiutante coniglio prendevano a piene mani e raffinavano ulteriormente tutti gli elementi vincenti dei titoli precedenti. L'interfaccia scoom viene completamente rivoluzionata, perdendo i tasti verbali, sostituiti da una serie di strumenti richiamabili tramite il tasto destro del mouse. Una storia paradossale a tinte noir faceva da sfondo ad un gioco modernissimo nella tecnica, con animazione degna di un cartoon dei Looney Tunes, un doppiaggio spastosissimo e personaggi indimenticabili. Rispetto alle prime avventure Lucas, lo humor che permeava questo gioco era più crudo, più cinico, più cinematografico se inquadrato in quel preciso periodo storico, ma come sempre irresistibile. Anche di Sam & Max uscirono in seguito sequel più o meno riusciti, con lo zampino di Telltale, ma nulla riesce a battere il gioco originale. Ah-ha! Ideata dal solito Tim Schafer, questa storia a base di motociclisti futuristici stravolgeva tecnicamente un po' tutto. Ereditando la stessa tecnologia già usata per i giochi di Star Wars, per la prima volta in un'avventura grafica le animazioni generate in tempo reale venivano fuse con filmati tridimensionali pre-renderizzati, dando così la possibilità di godere di visuali e prospettive inedite fino ad allora e di osare maggiormente sullo stile cinematografico del titolo. A dimostrazione di ciò, vennero anche coinvolte personalità attoriali di spicco, come Mark Hamill, il Luke Skywalker proprio di Star Wars, che andò ad impersonare l'antagonista finale. Insomma, da qualunque parte lo si guardi, Full Throttle è, senza alcun dubbio, una vera pietra miliare nella storia dei titoli sconti. Tratto da un'idea di Steven Spielberg, questa epica avventura fantascientifica, sviluppata in un lasso di tempo lunghissimo, quasi sei anni, che erano un'eternità per quei tempi, mise a frutto tutte le migliorie tecniche di gameplay già sperimentate sui giochi precedenti, e si innalzò ad un livello superiore. Un mix riuscito di grafica disegnata a mano e pre-renderizzata, una interfaccia SCUM semplificata, evoluzione di quella già presente in Sam & Max e una storia spettacolare, lo resero un enorme successo di vendite e critica, tanto da far nascere curiose leggende metropolitane che volevano questo gioco collegato a blockbuster cinematografici come Deep Impact, ad esempio. In realtà, l'idea originaria di Spielberg nasceva proprio come soggetto per un film, purtroppo irrealizzabile all'epoca per mancanza di fondi e tecnologia. Alla fine se ne fece un gioco, ma a noi appassionati andò benissimo così. Il terzo episodio delle avventure di Guybrush Tripwood segna un profondo stravolgimento nello stile della serie. La grafica completamente cartoon, il doppiaggio e un'interfaccia SCUM ancora più semplificata non mancarono di generare una bella dose di scetticismo inizialmente. Ma alla fine, un protagonista scemo come al solito e le assurde avventure intorno al leggendario Pollo Diablo convinsero persino i puristi più intransigenti. In definitiva, non si trattò certo di un gioco imprescindibile e indimenticabile, ma sicuramente molto meglio di tutto quello che venne fuori in seguito sotto il nome di Monkey Island. Mi capita ancora di svegliarmi la notte urlando al solo pensiero del quarto, orribile capitolo. The Curse of Monkey Island fu comunque l'ultimo gioco ad utilizzare il sistema SCUM. Eh già, beh, pace all'anima sua. Non sembra male se ti piacciono i cavoli. E così, eccoci qua. Cosa rimane oggi dello SCUM? Beh, nell'industria videoludica moderna ovviamente nulla, se non le logiche di funzionamento che continuano ad esistere nella spina dorsale anche delle avventure grafiche di oggi. Mentre nella scena dell'emulazione, beh, lì il discorso è diversissimo. Grazie al miracoloso SCUM VM, cioè SCUM Virtual Machine, un virtualizzatore di ambiente SCUM, anche oggi è possibile giocare su una miriade di sistemi diversi, cellulari inclusi, tutte le avventure basate su questo celebre motore. Io stesso, in tutti i miei dispositivi portatili, basati per esempio su Android, come prima cosa installo sempre SCUM VM nella sua versione mobile. Si tratta semplicemente di un programma meraviglioso, quindi se avete voglia di rigiocare questi titoli o di scoprirli per la prima volta, beh, approfittatene. Sempre che i giochi non siano disponibili nei vari store online di PC e console, ovviamente. Bene, che altro dire, conoscevate queste avventure grafiche e il motore SCUM? Che razza di domande, ovvio che dovete conoscerle! Ci avete giocato all'epoca? O magari ve le siete gustate recentemente? Beh, raccontatemi tutte le vostre esperienze qui sotto nei commenti. Per questa puntata è tutto. Ringrazio tutti voi per la cortesa attenzione, un caro saluto dal vostro Dr. Game, e ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti!